Una medicina sostenibile e accessibile non solo dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista gestionale e produttivo, cioè consente alle piccole aziende di mettere in commercio dei prodotti con costi bassi, per cui sostenibili anche da aziende che sono nate da poco, giovani, nonostante si riesca poi ad arrivare a un pubblico molto ampio attraverso i nostri due canali di vendita che sono quello del web, da un anno abbiamo attivato l'e-commerce per cui abbiamo gente che arriva sul sito e più di mille persone al giorno quotidianamente lo visitano e poi questo ha fatto sì che si diffondesse anche la vendita nelle farmacie attraverso il classico canale della distribuzione. Ecco, almeno mille persone tutti i giorni, in alcuni però so che sono state toccate delle punte molto interessanti, superiori anche ai 2000, che sono risultati per chi segue un po' il mondo della comunicazione decisamente importanti per un'azienda come è stata definita e come è, giovane. Sì, esatto, sì, sì. E in tanti scrivono anche perché ovviamente sono interessati ad avere precisazioni, a porre curiosità. Sì, è un pubblico evoluto e interattivo perché entrano nel sito, si incuriosiscono e quotidianamente ci scrivono per avere informazioni sui prodotti, sulla nostra filosofia, sui canali di vendita, eccetera.